Il referendum per l'abolizione, per la riduzione, chiedo scusa, del numero dei parlamentari è un referendum che ha avuto un esito tutto sommato scontato. L'affluenza non è stata elevatissima, diversamente da quello che qualcuno va in giro dicendo, ma comunque noi siamo soddisfatti che abbia prevalso il sì, pur dovendo e volendo sottolineare il fatto che esiste una percentuale di no che è superiore rispetto alle previsioni. Questo significa che c'è un'esigenza, a mio giudizio, di riforme vere da parte degli italiani che anche quando si dicono d'accordo sul taglio dei parlamentari contestualmente hanno titubanze perché temono un deficit di rappresentatività parlamentare sia di tipo politico sia di tipo territoriale e quindi noi riteniamo che questo processo di riforme debba proseguire. In modo particolare ci auguriamo che si possa finalmente arrivare all'elezione diretta del Capo dello Stato, però parlando di assetti costituzionali e di Parlamento penso che il segnale che è stato dato anche con le elezioni regionali di cui parlerò di qui a breve è un segnale che va nella direzione del rilancio del bipolarismo, è come se fosse tramontata un'epoca di tripolarismo e quindi c'è un'esigenza di maggioritario, quindi di difesa di quel referendum che vide oltre l'80% di cittadini italiani schierarsi per il maggioritario, quindi per avere la possibilità nelle elezioni politiche non solo di mettere una croce su un simbolo elettorale ma anche di scegliersi il governo, la maggioranza di governo.